Firmato un protocollo d'intesa tra l'Associazione dei Notai della provincia di Lecco e la Naci, in cosa consiste e qual è l'importanza per i notai? Voi sapete che il riferimento negli atti notarili importante sono gli amministratori, i quali sono depositari di tante verità, le spese condominiali pagate o non pagate, ordinarie e straordinarie, i parcheggi, l'ultimo piano. Qual è la situazione? Uno acquista un appartamento o una billetta in condominio va a fronte a delle situazioni difficili che anche il notaio fa fatica qualche volta a districarsi e il riferimento è un po' quello, cioè sarebbe importante avere un riferimento preciso con gli amministratori di condominio. Il problema è che gli amministratori finora sono un po' sparsi, più era difficile trovare un interlocutore. Abbiamo trovato in Anaci, che è un'associazione che rappresenta fino alla zona più di 100 amministratori di condominio, quindi intorno a circa 100.000 persone complessivamente, con i quali condividono questo discorso di fare qualcosa per il consumatore, per chi acquista la casa. Alla fine se l'amministratore dà i dati, si mette a disposizione come i notai che devono chiedere queste cose o per aggiornamento è chiaro che il consumatore si trova in una situazione più veloce, più semplice, più chiara e anche il notaio potrà dargli ancora più garanzie su questi argomenti. Che magari si arriva alla fine di questa lunga maratona per sottoscrivere un atto e alla fine manca il dato delle spese economiali, oddio, devo rifare il tetto, sono 100.000 euro, come faccio a saperlo? E ho capito, il notaio è anche bravo, però è difficile che riesca a individuare tutta la storia. E l'intervento in questi casi dell'amministratore è assolutamente decisivo. Per cui questa convenzione, che peraltro era prima fatta in Italia, e speriamo che sia anche un incentivo su questo discorso anche a livello nazionale, ci sembra un buon sentiero, una buona strada, nell'interesse del cittadino. Un significato molto importante che razionalizza moltissimo quello che è lo scambio di dati in occasione di compravendite che normalmente avviene a norma di legge tra gli amministratori di condominio e i notai. È un segnale molto importante anche di supporto alla cittadinanza che avrà una snellezza di operazioni e una certezza di dati superiore a quella che c'era ora. Ci presentiamo tutti uniti, noi amministratori, oltre 100 sul territorio della provincia di Lecco, all'associazione dei notai della provincia di Lecco, per costruire un rapporto che possa partire da questo protocollo di intesa e poi estendersi. Sono previste anche consulenze reciproche tra gli amministratori e i notai per sempre dare un servizio migliore alla nostra clientela. È stato un accordo pilota e siamo molto orgogliosi di questo. Grazie. Grazie a tutti.